Buongiorno a tutti, oggi parliamo della legge 41 del 2016 in ambito circolazione stradale. Facciamo un esempio, in caso di lesioni gravissime, ovvero con prognosi superiore a 40 giorni, dovete sapere che il procedimento penale parte d'ufficio. Questo è molto importante per l'automobilista che viene coinvolto in quanto ha bisogno di un'assistenza legale e soprattutto di un'assistenza peritale per difendersi dal procedimento. Non conta il risarcimento perché sono due attività distinte e parallele. Ricordo anche a tutti che noi siamo responsabili, quando siamo alla guida del nostro veicolo, non soltanto nei confronti di terze persone, ma anche di tutti coloro che trasportiamo sul nostro veicolo. La legge 41 al suo interno ha degli aggravanti ma mai degli attenuanti. Che cosa vuol dire? Che la guida sconsiderata, l'eccesso di velocità o peggio, la guida in stato di ebrezza può comportare un aggravamento delle pene. Per tutte queste ragioni, una polizia di tutela legale vi permette di avere la migliore assistenza e la migliore protezione.